Mamma mia, non ne parliamo. Perché? Perché no? No, 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 no. Preferiscono parlarle, no? No, no. So che mettendo il no si favorisce il popolo alla sovranità, no? Mentre dando il sì so che comunque il popolo perderà la sovranità. Per questo motivo penso di votare no. Io sono d'accordo con il ministro Schott, ma guarda, io penso che bisogna che l'Europa inizi a controllare il bilancio tedesco. Qui si avrebbe anche gente di mare per cui avete dei... Ui, ui che? Ho detto gente di mare. Il fine del Renzi domenica? Speriamo di no. No? Speriamo di no. Grazie. Ok? Grazie.